Altro che McDonald's, allora, panini fatti da noi, dal mio marito, col sesamo, buono come il pane, come si suol dire. Poi io ci ho messo un po' di maionese e ketchup, poca sotto la mia, tanto sotto quella del mio marito. Poi ci ho messo la... oddio, come si chiama questa verdura qui, non me lo ricordo. La rucola, non mi veniva, scusate, i pomodorini. E poi ho fatto le cipolle in agrodolce da metterci sopra. Guardate che bellezza, Toba, la roba, la zuppa in inglese. Da mettere sopra, così. Poi ce ne potete mettere quante ve ne pare, tanto ce ne... Cioè, come se voi foste a mangiare qui con me, senti la roba, quante ne ve ne pare? Pappacaya, tattacaya. Ok. Ok. Pappacaya, tattacaya. Ok. Grazie a tutti.